Mercoledì 4 aprile 2018, 94esimo giorno dall'inizio dell'anno. Siamo sotto il segno zodiacale dell'Ariete. La chiesa ricorda Sant'Isidoro. L'onomastico. Oggi si festeggia l'onomastico di Isidoro. Cognomi italiani. Il cognome di oggi è Grimaldi. Deriva dal nome proprio germanico Grimald, che significa capo che porta l'elmo. Può però derivare anche da alcuni toponimi, come Grimaldi in provincia di Cosenza e Grimaldi di Ventimiglia in provincia di Imperia. È un cognome diffuso in tutta Italia. La variante Grimaldi è però tipica lombarda, mentre le forme Grimaudi e Grimaudo prevalgono al sud, specialmente in Sicilia. Le varianti Grimold e Grimod sono specifiche della Valle d'Aosta. Accadde oggi. Il 4 aprile del 1968 a Memphis viene ucciso Martin Luther King con un colpo di fucile alla testa. Chi è nato oggi? Oggi facciamo gli auguri a Francesco De Grigori, nato a Roma il 4 aprile 1951. La citazione da ricordare. I cani ci guardano dal basso, i gatti ci guardano dall'alto, i maiali ci trattano da loro pari. Winston Churchill. Dice il saggio. Un cammello. Non prende in giro un altro cammello per le sue gobbe. Proverbio egiziano. Un consiglio al giorno. Avete trascorso una serata in casa con gli amici e vi è rimasto del vino? Mettetelo nella vaschetta del ghiaccio. Avrete così a disposizione dei cubetti con le dosi già pronte per insaporire le pietanze.